Riccardo, serie interrotta, serie positiva interrotta, però si può ripartire dal finale della partita con Bologna? Sì, si deve ripartire dal finale della partita con Bologna perché è stata un'ottima reazione dove abbiamo cercato di riaprirla e per un po' ci siamo anche riusciti però lo scarto che avevamo accumulato dall'intervallo e nel terzo quarto era troppo alto quindi è stato difficile arrivare punto a punto, giocare solo punto a punto però comunque è stata un'ottima reazione e sì, dobbiamo partire da quello Che cosa deve fare Pistoia per tornare dal Palaruffini con un risultato positivo contro una squadra tra l'altro sotto pressione e in grave difficoltà? Beh, giocare la nostra palacanestro non avendo dei blackout iniziali soprattutto come quelli con Bologna, dobbiamo cercare di partire forte, rispettare il piano partita e facendo questo secondo me ce la potremo giocare Il recupero sia pur parziale con Bologna ha portato alla firma di voi italiani? Sì, siamo in campo nella parte finale e abbiamo cercato di fare un po' il lavoro sporco che deve essere una nostra caratteristica quando veniamo chiamati dal coach in campo però comunque non è servito per vincere la partita, bisognerà farlo dal primo minuto contro Torino Ti aspettavi una Torino così in difficoltà, visto i propositi estivi, visto l'allenatore NBA, eccetera? Beh, così in difficoltà no, certo non è facile quando cambi praticamente quasi tutta la squadra durante l'estate e in più continui a cambiare anche durante l'anno di sicuro non è facile perché non si crea con l'alchimia di squadra che aiuta quindi così in difficoltà no, però comunque rimanga una squadra di gran talento con giocatori esperti come così in Poeta un allenatore che si sa di che calibro sia quindi non è sicuramente, nonostante le difficoltà, una squadra sottovalutale Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!